C'è il decancello Bavi, Antone, Mizzini, Marsante, Conterlo e ancora Rota Subito Tommaso Bavi del Garlate al comando davanti a Riccardo Antone In seconda per andare in finale A, Antone E poi Lorenzo Mizzelli, ma c'è anche Conterlo per la finale A Del Grillo, Stefano, Conterlo, del Beslate C'è per la finale